Non contro il progetto, ma a supporto e in un'ottica di miglioramento. Si pone così il CONFER, Comitato Ferroviario Interprovinciale, che riunisce i comuni di Manoppello, Alanno e Chieti, con oltre 6.000 iscritti, costituitosi per migliorare il progetto del raddoppio della Ferrovia Pescara-Roma, evitando di stravolgere il tessuto urbano dei territori toccati dall'opera. Punto di non ritorno nella catena procedurale di realizzazione dell'infrastruttura sarà la conferenza dei servizi, con il conseguente appalto dei lavori. Per evitare che il progetto venga imposto ai comuni, il CONFER chiede di prendere in considerazione delle alternative al tracciato già in essere, coinvolgendo i territori in un'ottica di collaborazione migliorativa, come spiega il nostro microfono Ermo Dastolfo, portavoce del Comitato. Questo non è un comitato contro, però è un comitato per fare qualcosa di decente dentro il nostro abitato, per il tessuto urbano di Manopello e di Brecciarola di Chieti, prevalentemente. Noi chiediamo di essere ascoltati, purtroppo fino ad oggi c'è stata poca attenzione da parte di RFI, pur partecipando noi a tutte le sedute di dibattito pubblico previste dal PNRR. C'è stato anche recentemente un incontro con il senatore D'Alfonso, cosa è emerso da questo incontro? Ha fatto una proposta che noi raccogliamo, cioè quella di interagire direttamente anche con il VIA. Il VIA è il Comitato di Valutazione di Impatto Ambientale e il presidente Atelli del VIA dovrà ascoltarci, secondo noi, così come anche lui ha suggerito. E quindi facciamo voti a tutti i parlamentari abruzzesi affinché ci sostengano in questo e in primis il senatore D'Alfonso che ha, diciamo così, la veste più istituzionalmente rilevante. Si parla di abbattimenti di edifici, di stravolgimento del tessuto urbano e anche della viabilità delle città, dei comuni interessati da quest'opera. Qual è la proposta alternativa che come Comitato state spingendo, state portando avanti? La proposta alternativa è una proposta che dà vantaggi al progetto, cioè raddrizza il tracciato ferroviario facendolo passare dentro l'area interportuale, cosa fattibilissima, non lo diciamo noi, ma i dati oggettivi, i tecnici, la storia proprio del tessuto urbano della Val Pescara. Chiediamo questo perché possa così evitare una distruzione nei fatti della vita collettiva di queste aree. Il problema non è soltanto l'abbattimento di 60 edifici per oltre 100 abitazioni, il problema è devastare un'intera area urbana in crescita, tant'è che per esempio a Manopello Scalo saremmo, in questo caso, seguendo ciò che vuole fare RFI, saremmo tagliati in due, un paese che viene spazzato via nella sua storia e nella sua crescita futura.